Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Una storica frase di Henry Ford, imprenditore statunitense fondatore della Ford Motor Company. Noi la crediamo ancora attuale. Non perdere tempo. Chiamaci Radio Etna Espresso 095 89 46 16 o info chiocciola radioetnaespresso.it